Chi è quel bimbo che segna e sta dolcemente in greppo alla madre? Chi è quel bimbo che gli angeli adorati, contenta, felici? Quello è il Cristo che i pastori adorano con gli angeli. Su resta venite qui a dotare il figlio di Dio. Chi è quel bimbo che è povero, adagiato in un presente? Chi è quel bimbo che è povero, adagiato in un presente? Su resta venite qui a dotare il figlio di Dio.